Dalla programmazione alla fase esecutiva. Il piano delle opere strutturali commissariali diventa pienamente operativo. E questo quanto emerso durante la conferenza stampa organizzata in Regione in occasione del secondo anniversario dell'alluvione che colpì le marche il 15 settembre 2022 e nella quale il presidente Francesco Acquaroli ha aggiornato la situazione di una fase di ricostruzione che per i fiumi Misa, Nevole e Comprensorio del Catria sta mettendo a terra risorse importanti. Un processo ulteriormente agevolato dalla proroga di un anno dello stato d'emergenza fondamentale per programmare opere di prevenzione a rischio idrogeologico. Siamo praticamente a due anni, tante sono le risorse che sono state messe in campo, dalle zone urgenze al CAS ai ristori, ma oggi si sta impegnando tutta la struttura insieme ai comuni, a tutti gli altri enti interessati per garantire una messa in sicurezza del territorio, per migliorare la mitigazione del rischio e per dare delle risposte che erano attese da decenni, dalla Valle del Misa, dalla Valle del Nevola, ma anche all'introterra pesarese, penso tutta la zona e il Comprensorio del Catria che due anni fa sono state particolarmente colpite in quel pomeriggio del 15 settembre, tardo pomeriggio del 15 settembre. C'è stata la proroga dello stato d'emergenza a settembre del 2025, altri 12 mesi importanti per continuare in quest'azione e soprattutto siamo in procinto di mettere in campo tutta una serie di opere che sono state progettate per arrivare alla mitigazione del rischio. Gli ambiti di intervento hanno riguardato la sommorgenza, i ristori per imprese private e il piano delle opere strutturali del commissario. Per la sommorgenza sono stati approvati dal Dipartimento Nazionale di Protezione Civile 1.470 interventi per 135 milioni di euro con 53 milioni già liquidati in attesa della completa rendicontazione da parte dei soggetti attuatori. Il Genio Civile ha avviato 122 interventi di ripristino infrastrutturale e manutenzione straordinaria nei bacini dei fiumi. Per le infrastrutture minori il Consorzio di Bonifica è a lavoro sulla ricostruzione di 12 ponti con tre opere già completate. La novità importante è che ci stiamo dedicando a mettere a terra le opere del piano del commissario dell'ordinanza 1011 che sono per il momento 130 milioni di euro e che però aumenteranno. Fra qualche giorno raccoglieremo 19 progetti preliminari relativi a questi interventi che possono essere fatti e le indicazioni dei progetti confluiranno nell'accordo quadro che permetterà di selezionare tutte quante le imprese a cui saranno affidati i lavori entro l'anno. Il ringraziamento ovviamente non può andare che al governo che l'attuale governo che ha stanziato 400 milioni è una cifra eccezionale per un evento comunque importante come questo ma anche i 28 milioni messi in campo dalla stessa regione Marche. Sul fiume Misa 28 milioni posti dalla regione Marche credo che nella storia della nostra regione mai è stata individuata una cifra di questo genere ma neanche se mettiamo insieme tutti gli interventi che in 30 anni sono avvenuti. Quindi ecco è stato un lavoro che oggi ci può diciamo consentire di dire la certezza della sicurezza di fronte a eventi come questi non ci può essere mai. Poi quello del 15 settembre del 2022 è stato talmente eccezionale che credo spero e voglio immaginare non succederà per altri mille anni però per quelle che sono le attività di piene di disagio avvenute su quei territori più volte anche in maniera molto grave come nel 2014 ecco io credo che noi abbiamo fatto quanto è necessario per far stare tranquille le popolazioni di quei territori.